Il fine della partita sono le 17.45 del 12 maggio, la Lazio chiama tutto il foggia di misure su rigore il campione d'Italia per la stagione 74-75. Da tutti i settori del campo convergono verso il centro i tifosi che hanno atteso per mesi in questa partita con ansia sposmodica questo grande momento. È la prima volta che la Lazio in 74 anni di attività riesce a raggiungere il massimo traguardo e lo fa con 90 minuti di anticipo sulla conclusione del campionato.